Giacomo Olivieri, recentemente rottamato dalla presidenza di Realtà Italia, la vediamo comunque col suo proverbiale sorriso, masochismo o che altro? No, è un momento in cui dobbiamo autorottamarci, io lo dico questo seriamente senza sorriso, non perché sono masochista, perché la direzione di Realtà Italia ha deciso di non candidare nessun uscente, quindi non Attanasio, non Olivieri, non Buccoliero, dobbiamo dare spazio a nuove leve, a nuove forze che vogliono guidare la Puglia e vogliono essere consigli regionali, perché occupare sempre noi questi spazi? Allora qualche nome ce lo deve fare, chi prenderà il posto di questi pezzi da 90? La lista che sta venendo fuori di Realtà Italia è una lista di persone come l'avvocato Mariella, presidente della Nita ad esempio a Bari, altri nomi importanti di Lecce, però tutti che non hanno mai fatto l'esperienza di consiglieri regionali e che vogliono imparare, il mio ruolo è quello di spiegargli quel poco che so della politica. Lei si proclama autorottamatore, 15.000 preferenze, è stato sicuramente il più suffragato ai tempi nel 2010, uno dei più suffragati addirittura d'Italia, si fa meno di questi voti, come funziona adesso? Sì bisogna fare a meno di questi voti, ma io lo dico per tutti, è un momento in cui la politica deve dare segnali di rinnovamento. Quando si taglia un ramo, si fa una potatura di un albero, poi i nuovi virgulti vengono fuori molto più forti. Noi stiamo facendo questa operazione in Puglia, tirar fuori persone che hanno voglia di fare politica e nessuno deve fare da tappo. Livieri non può essere un tappo per la lista di Realtà Italia né per la politica in Puglia. Lei si autorottama, ma autorottamazione anche per Vendola e per gli altri. Dopo dieci anni Vendola è un'esperienza importante per la Puglia, ha compreso che ha deciso di non ricandidarsi per il terzo mandato, io apprezzo molto questa scelta. Vi devo dire che contavo sull'intelligenza di Niki perché tutti quanti ieri abbiamo firmato un documento in cui abbiamo apprezzato i suoi dieci anni e lo invitiamo ad essere padre nobile di questa coalizione di centrosinistra. Un consiglio anche a De Caro, un consiglio anche ad Emiliano se diventerà governatore della regione Puglia. Cinque anni bastano. Cinque anni in politica sono tanti, noi non dobbiamo crederci insostituibili. Siamo facilmente sostituibili e sicuramente con persone anche migliori di noi. Renzi ha inaugurato la stagione della rottamazione, lei dà ufficialmente il via a quella dell'autorottamazione? Assolutamente sì, varrà anche per Renzi. Renzi fra otto anni si autorottamerà nonostante la sua giovane età perché così come accade ormai per il popolo di internet, così come accade per la velocità in cui stiamo vivendo tutto quanto questo, anche in politica la velocità rottama. Dobbiamo prenderne atto e dobbiamo essere felici di questo.